buongiorno e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale oggi siamo a piazza san pietro e in questo video faremo un brevissimo tour della mostra cento presepi in vaticano che raccoglie pensate opere realizzate da artisti di tutto il mondo ok iniziamo da qui il nostro tour no no ma io non ci credo guardate cosa c'è qua il presepe dell'atac che spettacolo hanno fatto un capolavoro guardate anche questo che bello è stato fatto in croazia viaggiare a natale nessun problema c'è il presepe da viaggio questo invece è stato realizzato a roma e proviene da una casa di recupero guardate che bello questo qui fatto tutto il legno questi invece provengono dalle scuole infatti si vede che c'è il tocco dei bambini c'è anche un modellino con la ferrovia guardate che bello che è guardate questo qua invece proviene dall'ucraina vedete un presepe che in un certo senso va a rappresentare la guerra che sta devastando il paese questo è molto toccante questo a tema marino invece proviene da ansio guardate questo che bello con papa francesco e le guardie svizzere questo è stato fatto in ceramica proviene dal lazio guardate un po rappresenta il colosseo guardate anche questo che che bello questo è intitolato la fabbrica dei sogni fatto addirittura in tetrapack guardate che spettacolo qui c'è una mano con i colori della bandiera dell'ucraina anche questo presepe è molto toccante ci sono addirittura i carri armati e i soldati guardate anche questi sono molto particolari questo qui addirittura è stato ricavato da un tronco di platano bellissimo anche questo stupendo ragazzi il nostro tour qui è giunto al termine io vi ringrazio per avermi seguito e mi scuso perché non ho girato abbastanza immagini per fare una chiusura quindi vi lascio con questa clip di san pietro di notte ci vediamo in un altro video